Chiamo ad intervenire Marina Boscaino per i comitati per la riproposizione della legge di iniziativa popolare per la buona scuola per la Repubblica. Allora grazie, grazie tante per l'invito. Per la prima volta, per quanto mi riguarda, in vent'anni di militanza politica sulla scuola statale, per la difesa della scuola statale, mi capita davvero di lavorare in una totale, uso una parola che non mi piace, sinergia davvero concreta e davvero operativa con gli studenti che è una cosa davvero meravigliosa. Perché abbiamo trovato un campo di applicazione, una palestra comune proprio nella legge di iniziativa popolare per la buona scuola della Repubblica. Tra l'altro una legge che raccoglie alcune e alcune vanno perfezionate dal momento che, come diceva anche Danilo prima, si tratta di una proposta che è stata scritta nel 2006, intanto è passata la storia e l'ulteriore sfacelo della scuola statale che però raccoglie alcune, parecchie direi, delle istanze che sono contenute anche nel vostro documento. Si è capito in quella zona che esiste davvero realmente, al di là delle dichiarazioni, un rapporto bionivoco per quello che riguarda la scuola tra due delle principali, direi forse, le principali componenti, cioè quelli che vanno tutte le mattine dentro la scuola, gli studenti e i docenti. Istruzione tecnico-professionale, assolvimento dell'obbligo formativo, non nell'apprendistato, dunque la questione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico che è un elemento di rimente per la legge di iniziativa popolare, sono alcuni degli elementi su cui stiamo lavorando insieme proprio per portare avanti una proposta che tenga dentro i dieci anni che sono passati dalla sua elaborazione. Ma tutti i provvedimenti e le specificità che sono contenute alla legge di iniziativa popolare possono veramente essere visti da entrambi i punti di vista ed accolti da entrambi i punti di vista. L'assunzione immediata dei precari che noi chiediamo rispetto, noi ci stiamo battendo per il decreto relativo esclusivamente all'unica questione reale di urgenza e necessità che è appunto l'assunzione del precariato con tutte quelle promesse a cui si alludeva che stanno aprendo veramente una frattura pericolosissima anche all'interno dei docenti è qualcosa che si inserisce perfettamente nel diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti attraverso tra l'altro quanto previsto dalla LIP un organico realmente funzionale, non quello che ci dicono loro, non quello che immaginano in maniera veramente pedestre, sostegno, alfabetizzazione, lotta alla dispersione scolastica. La scuola come cooperazione e collegialità per noi è fondamentale, cioè spazi di democrazia più ampi per le componenti della democrazia scolastica. Una scuola che non debba essere terodiretta da dirigenti manager e della burocrazia ministeriale. Tra l'altro le proposte attuali si inseriscono in una linea di continuità che non sto a ricordarvi ma che parte da molto lontano, a prea, a brunetta eccetera eccetera. La piena gratuità della scuola statale con finanziamenti certi a tutte le scuole pari al 6% del PIL non è un'invenzione, non è un numero fantasioso, è qualcosa che inserirebbe la scuola italiana all'interno di una condizione di cui partecipano altri paesi europei, rispetto ai quali in controtendenza la scuola italiana ha disinvestito, solo due paesi hanno disinvestito negli anni della crisi dal 2008 ad oggi, l'Italia e la Lituania. La scuola dell'infanzia statale è obbligatoria per tutti, è garantita per tutti, ultimo anno obbligatorio. Ci sono degli studi che dimostrano che la propensione, la dispersione scolastica e il ritardo scolastico sono direttamente proporzionali a aver frequentato la scuola dell'infanzia. Un sistema di valutazione assolutamente autonomo dal Ministero che sostenga tutte le scuole, in particolare quelle che operano in condizioni disagiate al fine di dare a tutti gli studenti italiani la stessa offerta di istruzione e la stessa offerta di formazione che vuol dire un'interpretazione oggettiva del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Un rapporto tra scuola e lavoro è concludo finalizzato a garantire la libera scelta del proprio futuro agli studenti. No, assolutamente no all'apprendistato nelle scuole. Vi ricordo che questa è la conseguenza di un comma della finanziaria di Fioroni che poi venne recepito nella legge 133 della Gelmini e poi ulteriormente, come dire, individuato da Sacconi in maniera definitiva. Cioè nel nostro paese, unico paese in Italia, il quinto ginnasio dà diritto all'assolvimento, all'obbligo di istruzione come un anno di apprendistato. Io credo che le competenze di cittadinanza e culturali, quindi, degli studenti non siano le stesse. Grazie. Grazie a Boscaino.